che veniva va bene ok ok non ci sono problemi allora ok l'importante che io purtroppo devo andare urgentemente allaturati e quindi a me serve il libero passaggio e non è possibile ogni giorno perché c'è la macchina in modo che mi impedisce l'accesso ok è chiaro questo no guardi io normalmente posso passare ma sono sono infortunato mia moglie non è capace non è capace non è capace ma queste sono situazioni irrisolvibili no c'è una c'è la batante lei che parla a fare con la batante deve parlare con la proprietaria è inutile che parla con la persona ma io comunque siccome devo andare spesso la questa macchina è parcheggiata sempre qua che devo fare adesso bisogna conciliare che non le deve bloccare più il passaggio faccia la foto e faccia un verbale sì 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 ecco devono sapere devono devono sapere che siete intervenuti e voglio